Potrebbe essere stato il suo ultimo atto da commissario straordinario del Libero Consorzio di Ragusa, ma per Dario Cartabellotta, sin dall'inizio del suo mandato, è stato il suo chiodo fisso, ovvero chiudere la pratica su ACO, assegnando i fondi ex insiciam per incentivare le rotte aeree dell'aeroporto di Comiso. Proprio ieri è stata firmata la convenzione con la Società di Gestione del Piola Torre, 1.600.000 euro che serviranno appunto per lo sviluppo dello scalo casmeneo. Con questo atto vengono definite in pratica modalità e strumenti operativi che nell'ambito dei rispettivi ruoli istituzionali le parti porranno in essere per portare avanti le azioni finalizzate a favorire questo sviluppo e questa crescita. E la firma con la sua ACO ha spiegato lo stesso Gartabellotta è un atto concreto per avviare la promozione all'aeroporto di Comiso che è centrale nella valorizzazione di questo territorio e chiude una lunga fase istruttoria che ha comportato ritardi nell'assegnazione di questi fondi. Volevo pertanto mettere un punto fermo nella destinazione di questa somma relativa sempre ai fondi ex insice che hanno costituito conclude Gartabellotta nella mia azione amministrativa una priorità per dare risposta a questa terra virtuosa.